Bisogna essere bravi, bisogna essere uomini nell'assumersi le proprie responsabilità. Parola di Max Allegri alla presentazione di Juventus-Atalanta, sfida che andrà in scena domani sera allo stadio ma alle 20.45. È chiaro che dopo quanto è accaduto ieri con la penalizzazione di 15 punti inflitta da Juventus, qualsiasi argomento di campo viene a cadere automaticamente. Oggi questa conferenza serviva per testare direttamente l'umore del tecnico livornese e di riflesso quello della Juventus. A tal proposito, oggi, prima che inizi l'allenamento pomeridiano, il DG, nonché a D, Scanavino e il presidente Ferrero parleranno alla squadra. Nonostante ieri ci sia stato già un primo confronto tra lo stesso Allegri e Scanavino post-decisione, quindi legata ai 15 punti di penalizzazione che portano la Juventus al momento ad avere 22 lunghezze, in attesa di ricorse e quant'altro, ma questa è la minestra. E Allegri ha preso subito, immediatamente, coscienza della situazione. Ha detto, al momento, la situazione è questa. Quindi bisogna essere bravi a riadentrarci nella classifica per fare in modo che poi, tra due mesi, quando arriverà una sentenza definitiva, non ci siano rimpianti. Io credo che a livello di gruppo squadra questo sia l'unico atteggiamento percorribile, credo che sia il giusto atteggiamento a livello di gruppo squadra, a livello quindi di staff tecnico, di allenatore, perché in campo ci devi andare e devi spingere sull'acceleratore in campionato, in Coppa Italia, in Europa League. È ovvio che poi le vere partite si disputeranno in altre sedi che non hanno nulla a che fare con il rettangolo di gioco, ma questa è la minestra e quindi giunti a metà gennaio con una stagione che terminerà a livello di campo a inizio giugno è davvero l'unico atteggiamento che il gruppo squadra possa avere. Allegri oggi in conferenza è stato con un profilo molto basso, ve l'ha detto anche lui, nel senso che ha detto io non ho le competenze per poter analizzare questa sentenza. La Juve, come ha comunicato attraverso una nota ufficiale e con una dichiarazione dei suoi legali, farà ovviamente il passaggio successivo per tutelare il proprio orticello e per cercare quindi di ribaltare una situazione che è molto complicata. Tanto complicata, nel video di questa mattina, però ne parleremo anche domani, abbiamo discusso assieme di come non ci sia stata minimamente uniformità di giudizio, nel senso che sembra che solamente la Juventus abusasse o facesse uso di questo fenomeno dal nome Plus Valenze e mentre i club con cui la Juventus effettuava queste Plus Valenze, anche a cosiddetto specchio, alla fine della fiera se la caveranno con un'amenda, con una multa. Poi è ovvio che la Juventus è un club quotato in borsa, è ovvio che nel caso specifico le intercettazioni abbiano creato poi i presupposti di questo attuale meno 15, ma domani mattina faremo qualche tecnicismo in più perché credo che sia giusto continuare a dire la verità. Cioè qua non si tratta del tifoso juventino che si sente particolarmente colpito o altro, qua si tratta solamente di stabilire la verità perché se io sbaglio e un altro sbaglia con me è giusto che magari entrambi ci si assuma la responsabilità di queste conseguenze. Se c'è accadimento solamente con uno e due, allora viene a cadere qualsiasi teorema, qualsiasi lettura. Allegri ha detto quando gli era arrivata la richiesta inizialmente del meno 9 ho guardato quanti punti mancassero dalla Champions, quando poi è arrivata la sentenza del meno 15 ho effettuato il medesimo gesto. D'altra parte, davvero questo è l'unico modo per provare ad andare avanti. Sebbene, lo ribadisco, il campo sia l'aspetto più secondario di questo mondo al momento, il tifoso non vuole sentir parlare di probabile formazione, non vuole sentir parlare di Juventus-Atalanta, credo che tanti tifosi addirittura questa partita non la guarderanno perché sono delusi, perché sono ammareggiati, perché si sentono colpiti nell'io. Quindi è comprensibile che ci sia anche questa delusione, ma in qualche modo il gruppo squadra deve andare avanti. Oggi ho letto tante analisi, ho letto tanti messaggi su Twitter, è chiaro che l'antijuventinismo acuto gode, fa quasi passare che solamente la Juventus abbia teoricamente abusato di questo strumento, delle plusvalenze, ma io credo che si debba aprire davvero la testa, soprattutto gli occhi, e prendere coscienza del fatto che da trent'anni a questa parte le plusvalenze abbiano rappresentato la sostenibilità per praticamente tutte le società italiane. Basti pensare a che livello di degrado sia arrivato il prodotto sistema Calcio Italia, che non è minimamente spendibile tra i confini nostrani, figuriamoci se poi parliamo di Europa, se poi parliamo in generale di mondo, fa ridere quando alcuni accusano la Premier League di essere diventata la Superlega, e d'altra parte basti vedere anche un po' come sia stato governato negli ultimi anni il sistema Calcio Italia. Però è normale che poi finisse così, con il sentimento popolare che tende a mettere esclusivamente il mirino a una Juventus, che in questo momento è in ginocchio, che in questo momento è fortemente in difficoltà, vuoi per un cambio a livello dirigenziale estremamente corposo, vuoi perché proprio il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è stato nominato il 18 gennaio, ha principalmente un compito, se no un solo e unico compito, ovvero, scusate, difendere la Juventus presso le sedie opportune, e d'altra parte anche lo stesso neopresidente Ferrero, quando il giorno della sua prima dichiarazione in qualità di numero uno della Continassa, ha parlato per la prima volta a livello mediatico, e ha detto, sappiamo che ci attendono giorni complicati, però il Consiglio di Amministrazione è settato in modo tale che questi giorni complicati possano essere affrontati in maniera adeguata. Questo è il riassunto. Vediamo se fare un terzo video di giornata, o se magari facciamo sicuramente il punto di domani mattina, proprio sui prossimi passi a livello legale della Juventus. Però, sicuramente, con Ferrero e Scanavino, che parleranno alla squadra, sarà interessante capire cosa si diranno le parti, perché in questo momento bisogna fare quadrato, e soprattutto chi lavora e chi tifa a Juventus deve andare avanti, deve andare avanti. È chiaro che io ho letto tantissimi commenti stamattina sul mio video, vi ringrazio di gente profondamente delusa, che non vuole più vedere una partita, e che davvero non ha la forza in questo momento per andare avanti in maniera basic. Detta così. Però, il carrozzone c'è, e quindi anche lo stesso Allegri, oggi in conferenza, mi sembra che abbia utilizzato le parole giuste. Ho letto che qualcuno auspicava che potesse battere i pugni sul tavolo e potesse essere, diciamo, un po' per aggressivo a livello comunicativo, ma, insomma, oggi invece le parole del tecnico Livornese sono state di grandissima lucidità. Ha detto anche, sono e resterò alla Juventus, a meno che non mi mandino via, perché nei momenti di difficoltà bisogna stringersi attorno. Quando le cose vanno bene, siamo tutti bravi.